Ciao a tutte e ciao a tutti, oggi giornata piovosissima ma sono super felice perché mi è arrivata finalmente la palettina di Cleo, io adoro tantissimo il suo stile, adoro un sacco tutto quello che fa, quindi ovviamente non potevo non acquistare la sua palettina. L'ho presa con il preordine che era partito se non erro il 24 di settembre, poi c'è stato un piccolo disguido perché in quel giorno purtroppo il sito non andava molto bene, era crashato e cose del genere, quindi non avevano ricevuto il mio ordine ma ho contattato subito l'assistenza clienti e hanno appunto mandato immediatamente la palettina perché non era stato concluso l'ordine o una cosa del genere. E quindi mi è arrivata un pochino più tardi però vabbè non importa, tra l'altro li capisco perché ho lavorato diverso tempo anche in un negozio online e quando ci sono tutti questi acquisti di massa o comunque quando arrivano ordini tutti in un botto diciamo così, sono anche abbastanza complicati da gestire per cui è arrivata un po' tardi ma va benissimo lo stesso, non c'è nessun problema. Allora vi ho chiesto su Instagram se la volevate aprire qui o no, come sempre faccio una premessa, non la proverò qui perché come sapete io ci faccio prima mille foto, le cose che acquisto per cui non voglio swatchare i colori su YouTube ma le swatcherò su Instagram, sicuramente farò un reel adesso vedo, oppure delle storie. Quindi come sempre vi invito a seguirmi anche su Instagram, benny21 ma vi lascio comunque il nome nell'info box così non sbagliate. Non metto più il link perché non ho capito come mai conduce in un altro benny quindi ho deciso di evitare. Siccome il pacchettino e il concept di questa palette è molto sfizioso ho deciso appunto di farvela vedere qui, sono curiosissima di aprire, ho aspettato tantissimo, non vedo l'ora di provarla che sia sabato perché di solito il sabato è mattina o del tempo per pacciugare con la mia faccia con calma e quindi la proverò sicuramente, seguitemi. Allora vado ad aprire il pacchettino, ok, qua non vedete ma c'è scritto Juno Vegan & Cruelty Free quindi perfetto e qua ci sono tutti i siti utili se vi interessa acquistare la palettina. Allora qui abbiamo questo fogliettino con scritto Juno appunto lei è veramente pazzesca, è bellissima e io sono molto molto come lei, non so se lo avrete notato ma ho una parte Barbie e cute e una parte un po' più witch che dentro di me contrastano tantissimo. Insomma, credo che un po' tutte le ragazze siano così eh, c'è una piccola strega in ogni donna come dice uno dei miei film preferiti, nel caso non l'abbiate visto rimediate, si chiama Practical Magic, amori incantesimi. Allora qui c'è scritto, hello there, sono così felice di poter finalmente condividere con te il mio sogno, ora fai parte anche tu del mondo di Juno, non vedo l'ora di vedere tutti i look che creerai e non dimenticare di tagare Juno.it, love you Cleo, quindi sì, sarà divertente insomma creare qualcosa per loro e metterla su Instagram, adesso vediamo se riesco oppure no, adoro anche il pacchettino comunque. Qui c'è un adesivo perché il brand si chiama Juno, quindi presumo che usciranno altri prodotti più avanti nel tempo, ma la palette si chiama Basic Witch che io adoro, non potevo non prendere. E' tutto incartato in questa carta bianca, eccola qua, no vabbè è stupenda ed è appunto un'altra scatolina. Qui c'è dell'altra carta che non ci può interessare di meno, quindi posso spostare forse questo e vado ad aprire e spacchettare la confezione con il pluriball. ASMR moment, oddio adesso passerò la giornata così, no vabbè, conteniamoci. Perfetto. Tra l'altro il nero e il rosa sono due colori pazzeschi insieme. Allora, come vedete qui c'è questo cartoncino, la palette pesa davvero un sacco e nulla. Qua dietro ci sono tutti gli inci, suppongo, sì, se vi interessano, non so se si vedrà qualcosa. Comunque è pazzesco che sia appunto cruelty free perché secondo me è molto importante oggigiorno come dicitura per quando si acquistano prodotti. Molto spesso non c'è scritto, quindi si fa quello che si può insomma per evitare certe cose terribili. Comunque, la palette è questa, io adesso la sfilo. Wow. Ta 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 ta. Giù no! No vabbè, è stupenda. Mi piace tantissimo. È bella, bella, bella. Guardate questo oro come risalta nel rosa e con le scritte nere. È appunto Basic Witch, vegan and cruelty free e eyeshadow palette, palette di ombretti. Devo dire che è molto molto pesante. Ah, non ho detto una cosa, il prezzo è 39 euro e qualcosa, costa parecchio, costa più delle lime crime medie. Cioè quelle lime crime che io amo alla follia, anche proprio per il pack, costano 35. Questa 39, costata un po' tanto, però vabbè. Io l'ho presa quando le spese di spedizione erano gratuite. Comunque vado a aprire. Ovviamente qua c'è la pellicola che protegge gli ombretti. Con scritto Juno, bella. Vabbè, bella, è una pellicola. Vabbè, comunque. Ed ecco qua, si può piegare o faccio un paciugo? Ok. Ed ecco qua appunto i toni degli ombretti. Io adoro tantissimo. Tra l'altro i nomi degli ombretti formano la frase che lei dice nel trailer. Quindi Che significa appunto, loro mi chiamano strega basica, insomma. Strana. Shady dovrebbe essere timida, forse. Nasty, cattiva. Dolce. Tesoro non essere spaventato da me. Quindi veramente molto molto bella. Non vedo l'ora di provarla e sto fremendo per sbocciare con il dito, ma devo resistere. Perché ho intenzione di fare alcune fotine molto molto carine a questa palette. Che secondo me è molto 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 bella. Cioè questo fucsia che è uno dei miei colori preferiti. Bellissimo. Tra l'altro vi consiglio anche di seguire Juno proprio su Instagram e Cleo. Perché stanno postando tantissimi, veramente tantissimi look fatti ed eseguiti con questa palette. Quindi assolutamente vi consiglio di seguirle. Sicuramente io proverò a fare qualcosa. Ho detto sicuramente sì, presumo di sì. Al più presto cercherò di fare un look con questa palette. Non vedo l'ora. Tra l'altro di questa palette ho seguito anche la diretta su Instagram. Che è stata molto molto bella e commovente. C'era lei tutta... No scusate, no Instagram, YouTube. Che c'era lei appunto super commossa giustamente. E anche la sua makeup artist di fiducia per quanto riguarda questo brand. Non so se faranno altri prodotti ma presumo di sì. Perché comunque il brand in sé si chiama Juno. E hanno fatto solo la paletta al momento. E tra l'altro avendo acquistato con il preordine mi hanno dato un codice sconto. da utilizzare per i prossimi acquisti. Ci saranno altri prodotti. Ma guardate quanto è bello il colore Witch. Non vedo l'ora di provarli. Mi piace. È una palettina semplice ma ci sono tutti tutti i colori che io utilizzo. A parte il giallo. Io il giallo non lo utilizzo mai. Però vedremo di inserirlo in qualche look. E anche il fucsia così non ho mai utilizzato. Ma ripeto, ultimamente sto... In inverno mi piace sperimentare quando fa un pochino più fresco appunto. E nulla, dov'è il fogliettino? Qui. Lo rivado a coprire. Veramente bella. Mi piace sia il concept, sia l'idea che c'è dietro. Sia la palette in set. In set. In sé. L'unica cosa, ripeto, che toglierei è che non avrei messo io. Ecco. Per mio gusto, ripeto. Il giallo. Però probabilmente si possono fare tante cose con il giallo che io non so. Perché non l'ho mai utilizzato. E nulla. C'è anche il nero. Tutti questi marroni. Bellissimi. Io li utilizzo tutti. Poi ripeto, io non sono una make-up artist. Lo faccio per divertirmi e passare un po' di tempo. Quindi anche ho deciso di prenderla e sperimentare un pochino. Devo dire che è pesante. È molto pesante, però è stupenda. Quindi sono veramente contenta di averla presa. E sicuramente prenderò, se farà magari una linea di prodotti labbra, qualcosa proverò. Perché sono stra-curiosa. E nulla. La trovo bellissima. Spero veramente per Cleo che vadano bene le vendite. Ma a quanto ho capito, se ha crashato più volte il sito, se hanno avuto dei problemi con gli ordini, eccetera, sta andando bene. Quindi non ha certo bisogno dei miei auguri. Mi piace un sacco. E l'ho sempre difesa a spada tratta quando la criticavano. Mi piace un sacco, veramente. Poi mi piace un sacco anche la make-up. Che è un'altra di quelle che si fa molti fatti suoi. E mi piace tantissimo per questo. E quindi nulla. Questa è la mitica Juno, finalmente, nelle mie mani. E non vedo veramente l'ora di provarla. No, scusate, io continuo a chiamarla Juno, ma questa si chiama Basic Witch. Però ho scritto Juno sopra, quindi mi viene da chiamarla così. Aspetto con ansia le prossime novità. Quindi Cleo sappi che hai una cliente fissa. Non vedo l'ora di vedere i prossimi prodottini. Sicuramente ci lavoreranno in questo periodo. E nulla, io spero davvero che il video vi sia piaciuto. E nulla, adesso vado un po' a paciugarci su Instagram. Perché la trovo veramente super bella. E voglio vedere un po' di swatch. Io vi mando un super bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!